Ragazzi miei, queste sono tutte le nostre vittime C'è chi ce l'ha data, c'è chi non ce l'ha data C'è chi l'ha avuta più di legno di un sughero E c'è chi ci ha strizzato il pinocchio, come questa Ma noi non ci arrendiamo e passiamo alla prossima E oggi andremo a fare da spalla a un nostro amico che cercherà di rimorchiare una voglione Magari ne rimorchiamo una anche noi Che tipo di ragazzo è la spalla migliore? Ma cos'è questo? Guarda ragazze, ma sembra un piatto Un ragazzo attraente, perché se almeno una tipa non gli piace il tipo E devo mettere il ragazzo attraente, così si prende Richard Riccardo io ti voglio bene, però non capisco un accidente Un ragazzo brutto che ti fa sembrare bello a confronto Devi essere brutto Devi essere una me** Allora, imposterete delle parole in codice? Che è una guerra Ma non impostare, cosa vuol dire parole in codice? Ma che è? Ma sono disperati per fare le parole in codice questi Ma sono disperati Ma roba da matti Ah, il ragazzo piatto è l'amico di Riccardo Sembra un vassoio dalla faccia Con tutto il bene possibile Non è bo di scemo Non sa che dire, ci pensano Gli faccio dire le castrominchiate Gli faccio dire le castrominchiate Digni che se non si avvicina a loro ci andrei tu a iniziare a urlare Così che tutti possano sentire Digni di bere un cicchetto per inquietare la sua autostima C gli sta un sacco Prenditi 100 dollari e digli che glieli dai indietro solo se decide ad approcciare Questa è un botto buona Faccio la B La B è quella più family friend È quella più family friend Pensa che quella storia è quella che andrà meglio Vai subito Dai oh Vedete quella migliore quella Entrambi vicinati insieme Il tuo amico sta vicino al tuo amico Vai vicinati entrambi Entrambi Ma cosa? Siamo un po' delle spalle Siamo un po' delle spalle zoppe Però dobbiamo cercare di entrare bene nella parte Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare? Digli di avvicinarsi e palparli al sedere Digli di provare con l'opener Scusate ragazzi sono in ritardo C'era molto traffico No Digli di essere se stesso E parlare di Star Wars Assolutamente no Digli di usare il Già testato Opener del fidanzamento Digli di provare Con la frase Siete il tipo di ragazze Che trattano male gli uff Allora Io faccio la di subito per i meme Assolutamente subito Poi andiamo a vedere quell'altra Prima di meme No Eh va bene la schiaffa Ehi Che fa il savage Dai dai vai Ma veramente male le tocca il culo Ma ci va veramente Ma ti ascolti veramente quello che ti dice Ma tu ci vai veramente a toccarle il culo Va bene Andiamo con la C Prova prova Sicuramente adesso non funziona Perché la gufata La gufata al 102% non funziona L'opener del fidanzamento non funziona Hi girls Hi Hi Can I ask you a question? Yes sure My friend dated a girl for a month And yesterday he proposed to her Do you think one month is enough time to figure out everything about a person? No No Yes You think no? Yes Why? Because it's too quick you know I don't think so I'm happy for the girl Well I must agree with you I think it's too soon And by the way My name is Greg I'm Greg Vicky Nice to meet you Ehi Ha proceduto bene Ha proceduto bene È stato bravo È stato bravo È stato bravo Fingi di vomitarle Oh mio dio Next non farlo Non farlo Non farlo Non lo devi fare Non premere quella di E l'ho premuta E le vomito addosso E non l'ho fatta apposta Oh Greg man I don't feel too good Are you crazy? Sorry babe I'm only joking Nothing there Look shake my hand It's not funny I don't want to shake your hand Shake my hand Okay I'm scemo Vai scemo È palesemente scemo Ma che c***o fa Ancora Alex Ma Alex ma Ma è già la seconda cosa Che ci propone Che fa Alex La prima era Quello di sbucare Dietro ai divani Fare sorpresa alle tipe Allora Avvicinati Ehi amico Allora chi sono queste due Via si fa Baldoria La C ragazza È quella più Avete capito Andiamo così Easy 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 Nice to meet you Monica Oh mio dio È un pochino fredda Nice to meet you Esatto Vaffanculo così Però è un po' freddine Ragazzi Un po' freddine Guardate giubbotto Però va bene Però va bene Era corretta quella Concentrati sul tuo amico Concentrati su entrambe le ragazze Concentrati sulla ragazza Che piace al tuo amico Concentrati sulla ragazza Che non piace al tuo amico Assolutamente questo Che ti piace In il tuo tempo Beh Mi piace Rade Così Insomma Come dice il detto Tipa nana Omega Vediamo se si chiama dopo Vediamo A noi gli piace Harry Potter Basta e basta C'è la mette lui La scopa con una bacchetta Basta Finisce così Alla fine E' visto che ho dato tutto Hai fatto Comunque gg ragazzi Allora Parla di 50 sfoteri di grigio E delle prigioni sessuali Prigioni sessuali Per i meme Non ho faccio Non ho faccio Non ho faccio Ma faccio Ma faccio ma che c... ma è un maniaco ma il Riccardo è un maniaco oh Riccardo metti via il pinocchio va là lo vedo un po' troppo in tiro no prova a rubarti le ragazze per fare una cosa ok questa sarebbe quella giusta io però voto per la cosa 3 perché i ragazzi miei che fai te ne privi te ne privi veramente buon amici? sì dai allora avanti avanti ma che cosa sta dicendo? ma Riccardo è senza ritegno ma Riccardo ma sei un maiale ma guarda è lì che cerca di aumentare la dose voglio drogarle tipe le voglio ubriacare e portare madonna mia che schifo ciao a tutti mamma mia no fan bene fanno bene se la giocano bene se la giocano bene sono bravi ma cosa beve l'acqua naturale? ma cosa beve l'acqua naturale? ma cosa beve l'acqua naturale? oh grazie e la madonna che rimorchia prima Riccardo che il suo amico c'è vanno là per far rimorchiare l'amico alla fine rimorchia Riccardo dille che hai una ragazza ma che puoi fare comunque sesso gioca con lei come se ti piacesse davvero che stronzo si freddo e di che hai una ragazza dille che hai una ragazza ma che puoi fare ugualmente sesso perchè per i meme perchè lo si fa per i meme e va a Pilates e e e e e Riccardo alle 7 di mattina ma che e e e e non l'ha presa proprio bene e non l'ha presa bene e niente non è ma che ma che ma che cazzo fa che cibo eh la madonna dai ma la carnaccia non vi piace cioè io non c'ho nulla ci ci mancherebbe è scelta di vita però il carnaccione è buono scopri cose logistiche vivono insieme e lavorano tutto il giorno parla dei suoi hobby con raccontala di quando sei andata a fare il safari in Africa ma cosa safari in Africa va a sparare le bestie ma che cosa ma che cosa sto dicendo ma che cosa sto dicendo ma che mangialo mai anche a di no 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 ma sono buoni ma sono buoni sono mangiati gli elefanti le gira era buona io sto morendo che l'amico gli regge allora ora è arrivato il nostro momento dobbiamo invitare il nostro amico di all'amica tra parentesi la tua ragazza come stanno bene insieme e incoraggia la connessione quella positiva è assolutamente la c esercita si 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 è una amica è sempre oh mio dio lei è incredibile ma vogliamo calderle e vedere cosa succede ma glielo dice in maniera un po troppo esplicita secondo me appena posso ragazzi appena posso fatto uscire l'animo porco del signor ricardo questa è la faccia di un maiale questa è la faccia di un maiale in virtù del quel maiale che ricardo si va fa lo scambismo e si fa lo scambismo gli brillavano gli occhi a greg gli brillavano gli occhi che romantico mamma mia vabbè era per i meme questa ragazza era per i meme però parla c anche se qualcosa mi diceva anche se secondo e greg voleva una mano se gli lascio fare lui diventa in panico sanno loro dove andare sanno loro dove andare riga forse greg va in buca forse greg va in buca ma già fatto ma così io ero pronto a mettere la gradella mettere lo sfrigolio le sfrigolose faccia noi dirò pronto ricardo io direi che però però ci va bene così ciao 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 ciao